La pianta che vuoi ti nasce nell'orto o nel giardino. A noi ci sono cresciute tre bellissime piante di Tasso verbasso o verbasco o nome scientifico verbascom tapsus. È una signora pianta buona per le vie respiratorie, per l'apparato digerente, per i catarri bronchiali, per colite e emorroidi. Noi la usiamo molto negli unguenti antidolorifici e anche per le ragadi, le emorroidi. È una pianta ben descritta da Manzoni nei Promessi Sposi quando parlando dell'orto del giardino dell'orto di Renzo dice il Tasso barbasso con le sue grandi foglie la nose a terra e lo stelo dritto all'aria e le lunghe spighe sparse e come stellate di vive fiori gialli. Noi della Cooperativa Comunità Don Milano amiamo questa pianta, come tante altre del resto. Qui ne abbiamo altre due, vedete? Ecco, queste piante sono il lavoro e l'amore sulle piante non è fino a se stesso, è per ricongiungere la natura con l'uomo, con gli esseri umani, per avere un mondo più armonioso con le persone. Ma il suo catano che sta prendendo il sole se la gode e la vita è sempre bella anche ad una certa età col suo immancabile bastone, però col sorriso e finché l'uomo sorride il mondo è salvo.